Lascia il Partito Democratico Irpino, il consigliere regionale Livio Petitto. Effetto elezioni. Lo fa scrivendo a letta a Meloni, responsabile organizzativo nazionale dei Dem e al segretario provinciale Pizza. Contesta la Corte dei Miracoli di De Luca, ripercorre a partire dal 2007 la sua appartenenza ma di essere ospite in casa propria, così scrive, non è più tollerabile, aggiunge sbattendo la porta. Albia una battaglia di libertà su sanità, trasporti e i problemi dell'Irpinia che porterò all'attenzione senza dover più essere etichettato come eretico. Fin qui le roboanti dichiarazioni di Petitto con repliche che non tarderanno ad arrivare da via tagliamento. Nel centro-destra fare notizia è l'assenza di riferimenti irpini nelle candidature per Fratelli d'Italia. È vero che il partito è stato commissariato in tempi lontani ma la rappresentanza in questo modo è stata del tutto cancellata. Sostegno al centro-destra da parte di Angelo D'Agostino che ringrazia Forza Italia dopo l'ipotesi candidatura sfumata e incoraggia quella di Rotondi che a sua volta dice bisogna ricostruire una comunità e il sostegno ricevuto è il primo e non l'unico passo. Tra gli ex Movimento 5 Stelle oggi in impegno civico non è candidato in Irpinia Generoso Maraia che sostiene la coalizione e tuttavia cercherà una rielezione in Emilia. Mastella va da solo, il terzo polo fa registrare veleni dopo le mancate candidature della base da capire se Azione e Italia Viva in Irpinia continueranno ad essere rappresentate dalle stesse persone che guidavano i partiti fino a qualche giorno fa.